l'effetto scenico, l'effetto scenico, tra fuoco pubblicità in zona a Monza, fischio di inizio fissato per le ore 18 al comunale di Bellinzona lo racconteranno per noi Emanuele Vento con la telecronaca e poi da ben ritrovati, nuovo appuntamento con Solo Calcio in questa mezz'oretta insieme andremo a parlare della protagonista di domani e ma anche di oggi che è il Milan perché proprio oggi è le quattro anni calciomercato aspettando la grande finale di domani sera, la prima delle tre però che ci riguarderanno perché ci sarà la Fiorentina in Conference League